Buongiorno, Orsetta! Buongiorno, Jacopo! Salve, Berto! Ciao, ciao, Jacopo! Caro Mastro Giovatta, è un piacere vedervi qui e non nella vostra Murano! Buongiorno! Beh, avevo delle cose da sbrigare qui in terraferma. Comunque, fa piacere anche a me di rivedervi. Ah, stamattina ho visto vostro figlio Marco. Infatti, è stato proprio lui a dirvi che sareste venuto qui a mangiare. Volete accomodarvi? Abbiamo appena ordinato. No, grazie. Non voglio disturbare oltre. Sono solo venuto per anticiparvi qualcosa riguardante l'ordinativo delle prossime bottiglie. Dite. Ecco, è da tempo che con mio padre abbiamo deciso di mettere sulle nostre bottiglie, quelle con il leone, anche questa scritta qui. Ma questo tipo di bottiglia con il leone e il vostro nome è un'esclusiva solamente vostra e quindi non so io... Vi faremo sapere con le prossime ordinazioni quante bottiglie avranno il nome Biasin e quante avranno il nome Querini. Va bene così? Va bene, come desiderate.